buonasera dalla web tv del premio l'ericipea e ariel l'ericipea giovani il primo festival indetto proprio specificatamente per la poesia dei giovani under 35 giovani poeti under 35 io sono qui con la bravissima giuseppina biondo e ciao giuseppina grazie per la generosissima introduzione bene giuseppina grazie a te di di essere qui qui con me a parlare di poesia della tua poesia dato che insomma sei tra i 13 selezionatissimi da giuseppe conte proprio in questo caso e davide rondoni senti un po qual è stata la tua emozione nel sapere di essere appunto tra tra questi selezionatissimi poeti ma sono felicissima onorata di questo invito è sicuramente una grande occasione anche per conoscere ecco colleghi autori giovani autori di poesia e poi sì sicuramente sono felice in primis perché credo che sia un'esperienza bella di una vera e propria immersione nella poesia tra grandi e piccoli non solo quindi giovani colleghi ma anche chi la poesia già la fa da tantissimo tempo la scrive la pensa e quindi sì credo che sia un'esperienza soprattutto bella da vivere non vedo l'ora infatti poi noi ci vedremo direttamente lì a leri ci sia anch'io dai ma manca manca poco ormai manca poco ci siamo senti giuseppina volevo chiederti invece proprio in rapporto al alle tue poesie al tuo modo di far poesia qual è stato un po il tuo percorso poetico dagli dal tuo esordio proprio a oggi e quali sono stati può individuarne non so due o tre temi principali che riguardano le tue raccolte allora se parliamo dall'esordio quindi parliamo super giù dal 2016 i temi sono tanti e diversi è difficile darne soltanto due zanzacomo perché in realtà all'inizio mi sono molto concentrata devo dire sulla figura del poeta e della poesia quindi erano effettivamente versi che si interrogavano sulla figura del poeta e sulla poesia di per sé e la seconda raccolta la contadina edita da appunto a capo editrice si concentra sull'amore ma anche sulle metamorfosi e le distrazioni quarantine l'ultimo libro quello più recente edito dalla casa editrice la vita felice ha come tema la gabbia e la gabbia però qui diventa un insieme a sé stante di temi perché gabbia è sì anche l'amore quello passato quello presente ma è anche la metrica il mondo editoriale l'educazione la religione la lingua qualsiasi cosa può diventare gabbia quindi come vedi mi è proprio difficile anche il linguaggio la lingua sono tutti i temi che io affronto e li affronto tra l'altro anche con stile e metro diverso quindi far rientrare le tre raccolte ma anche in generale le poesie le mie poesie all'interno di una sola struttura come dire sotto un'unica etichetta mi è difficile diventa diventa un po difficile quindi senti che comunque c'è un'evoluzione in questo tuo percorso sia stilistico che tematico proprio a livello contenuti un cambiamento sicuramente una metamorfosi sicuramente non so se è del tutto un'evoluzione può darsi una maturazione può essere sia anche però in realtà come dire sono tentativi diversi approcci diversi anche condizioni in cui mi sono ritrovata scrivere differenti cioè quarantine l'ho scritta durante il lockdown no quindi in qualche maniera raccolta tra l'altro mi permetto di dire bellissima che ho letto tra l'altro da poco quindi mi raccomando generosissimo di nuovo devo dire appunto mi trovavo all'interno di una condizione molto di chiusura evidentemente quindi da lì sono stata un po come una pallina impazzita all'interno di una di una gabbia no di un contenitore e sicuramente è stato diverso è stato differente rispetto alla scrittura più diluita nel tempo anche di della contadina o di come si salva un poeta il titolo appunto della mia prima pubblicazione con l'ibridine editore quindi ecco ci sono poi tutti questi fattori ancora differenti che caratterizzano le diverse raccolte i diversi libri certo bene grazie Giuseppina sempre Giuseppina dietro a queste a queste raccolte quindi di me credo che sia identico magari non so se poi è del tutto vero ma forse nella prima raccolta si sentono di più certi miei maestri no eh c'è forse un'influenza eh come dire maggiore anche da parte di Whitman mi verrebbe da dire in eh come salva un poeta ma questa influenza per esempio permane probabilmente anche sia nella contadina sia in quarantina in quarantina meno nella contadina ancora c'è eh questi versi molto lunghi con cui gioco quindi sì eh in come salva un poeta forse ecco posso dire che c'era un una presenza maggiore delle delle mie letture preferite credo credo anche credo anche che sia che sia normale anche bene mi ricordo eh non so se l'hai letto nel caso non l'avessi letto leggilo che lettera un giovane poeta di Rilke ehm dove lo stesso Rilke proprio si rivolge a questo giovane poeta e gli dice senti eh quando andrai in pubblicazione con le prime poesie fallo un po' con con qualche certezza in più cioè imita piuttosto i tuoi maestri che hanno già stabilito un po' una strada magari la gente eh si accorgerà di questo richiamo ai maestri però diciamo che ti servirà per prendere tempo e acquisire una tua voce invece poi personale quindi credo che sia anche normale ed è bello quello allora ho recuperato un po' di tempo per hai recuperato tempo ci voleva in questo mondo particolare che è l'editoria e la poesia è verissimo è verissimo Giuseppina senti io ti chiedo di leggere a questo punto magari due testi due o tre testi o qualche estratto di poesia come come mi dicevi ecco che ti avrebbe fatto piacere forse sì qualche estratto preferisco qualche estratto ehm inizio dalla contadina e e vi leggo sia una poesia molto breve di quattro versi e poi un altro estratto un po' più impegnato anche i quattro versi d'amore fanno così ti chiederei anche che cosa aspiri a diventare ma rischierei la confessione alla fine ho fatto di peggio e quegli occhi di chi sono quindi c'è la protagonista ecco parlo di protagonista perché per me un po' le le immagini ma la narrazione in particolare ecco sono importanti non solo il suono per me in poesia sì il suono certamente eh è necessario e alla base della poesia ma anche le immagini e la narrazione non riesco a dividere queste cose e allora la protagonista eh in particolare in questi quattro versi eh teme di far intuire alla persona amata il proprio interesse eh chiedendo semplicemente eh cosa aspira a diventare in realtà poi fa di peggio perché chiede ma quegli occhi di chi sono cioè gli occhi poi sono davvero forse il simbolo eh come dire l'abbiamo sperimentato credo tutti in questo periodo di eh mascherine no cioè ci siamo tutti concentrati sugli occhi dei nostri interlocutori e effettivamente eh sono una parte delle della persona degli uomini e delle donne fondamentali ci si può innamorare solo attraverso gli occhi ecco poi magari uno toglie la mascherino 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 e cambio idea però però ecco gli occhi al di là della della battuta sono veramente una calamita spesso no? E e cambio argomento naturalmente tema e volevo leggere qualche qualche verso della poesia quando ci siamo distratti la prima volta ehm è una poesia che alterna eh versi più prosastici più lunghi e proprio quasi discorsivi da da conversazione a eh versi più da ballata e un tra l'altro si crea eh ecco ne leggo soltanto una parte ma se dovesse capitare di leggere l'intera poesia eh ti accorgeresti o vi accorgereste voi ascoltatori eh che c'è questa ballata che cresce si forma via via no? Cioè si vedono alcuni personaggi e quando ritorno su questo diciamo ritornello anche se è improprio probabilmente da definire così eh si aggiungono dei versi quindi si aggiunge una narrazione e e questa ballata cresce sempre di più. Certo. Vado a dire nella parte che interessa eh leggere. E si parla di distrazione. Chi avrebbe potuto dubitare che ogni azione non fosse realtà ma distrazione ma almeno sapere come è cominciato. Bruciano gli occhi e ogni terra. Quando ci siamo distratti la prima volta un bambino che gioca non può saperlo. Forse lo sa un bambino che guarda la guerra. Non può saperlo neppure quell'anziana signora che mette la spesa nei sacchetti e paga in banconote. Forse lo sa quell'anziana signora che cura la vita del suo giardino. Lo sa quell'uomo che guarda dalla vetrata del grattacielo in cui lavora. Forse lo sa quell'uomo sul ciglio della strada. Soprattutto quella giovane può saperlo. Forse quella giovane donna che fissa il cielo, sta fissando il mare e l'orizzonte, fissava il tramonto. Forse quella giovane può saperlo. Deve essere andata così. Ci siamo sempre distratti ma adesso ci si sveglia e appare tutto più chiaro. Deve essere andata così. Ci siamo sempre distratti ma adesso ci si sveglia e il mondo si chiede chi è stato il primo uomo. Quando si è distratta l'umanità la prima volta, questo è il mio breve canto moderno alla distrazione. Ecco mi sono mangiato un non nella lettura. Ecco c'era l'uomo, non lo sa quell'uomo che guarda dalla vetrata, lo sa quell'uomo nella strada. Ecco volevo precisare altrimenti il senso poi magari non si coglieva. Certo si perdeva un po'. Però molto bella anche musicalmente mi piace. Mi piace questa lettura. Poi tu l'hai letta bene. Grazie. Stavo ancora ripensando all'immagine degli occhi che hai mandato. Adesso non mi ricordo quale poeta. Nei suoi versi, proprio adesso non li ricordo perfettamente, ma diceva se volete capire lo stato d'animo di un uomo coprite la bocca e il naso e guardate gli occhi, no? Perché effettivamente è difficile mentire da lì. Forse pure la bocca può essere utile come segnale, no? Anche la bocca un pochino aiuta, tradisce forse le espressioni, lo sguardo, no? Un sorriso può esserci, con gli occhi ti accorgi effettivamente se è un sorriso spento o viceversa, ci può essere magari, non so, c'è qualcosa, la bocca può in qualche maniera a volte aiutare, viceversa, oppure possono aiutare o tradire l'espressione, il pensiero, le parole di chi abbiamo di fronte, no? Assolutamente è così. Giuseppina, siamo arrivati alla fine di questo, di questo nostro incontro, io ti ringrazio per le tue poesie, per le tue parole e ti do appuntamento a Lerici. Va benissimo, ci vediamo tra circa un mesetto. Un mesetto, dai, un mesetto. Perfetto. Va bene. A presto. Ciao, ciao Giuseppina.